Il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche Le associazioni di volontariato sociale del CSV Marche sono 379 Il CSV trae sostentamento da un fondo costituito da una parte dei proventi annuali delle fondazioni di origine bancaria Le fondazioni che hanno contribuito al fondo sono 10 Le organizzazioni di volontariato presenti su tutto il territorio regionale sono 1813 con un aumento rispetto al 2015 del 2% Nel 2016 hanno chiesto ed usufruito di almeno un servizio 1207 associazioni pari al 67% di quelle che potenzialmente potevano avere accesso al CSV Il Servizio di Consulenza del CSV aiuta le organizzazioni di volontariato a trovare soluzioni alle difficoltà che l'attività di volontariato implica nelle diverse aree gestionali 2.970 le consulenze nel 2016 Il 99,2% delle consulenze sono erogate da operatori interni 109 i servizi di assistenza per il software ARCO e 18 le nuove installazioni del software ARCO Il CSV promuove corsi di formazione su tematiche comuni a tutte le associazioni e sostiene le iniziative formative promosse direttamente dalle ODV come corsi, seminari e convegni attraverso un apposito banner 23 i corsi realizzati dal CSV 108 le proposte formative presentate dalle ODV della Regione e 58 quelle finanziate I prestiti e le cessioni di materiale documentale sono state 138 mentre le richieste informative a cui è stata data una risposta ammontano a 1.227 Per far sì che l'azione dell'ODV sia più incisiva nel tessuto sociale del territorio è attivo un servizio comunicazione 151.671 le sessioni nel sito www.csv.marche.it e 5.311 gli iscritti alla newsletter 746 i follower su Twitter 191 tra comunicati e conferenze stampa 3.505 i follower su Facebook e 541 i servizi di grafica e di stampa a favore di 374 organizzazioni Tutti gli sportelli CSV forniscono servizi di uso di telefono o di fax computer con connessione internet fotocopietrice o stampante sale e riunioni e garantiscono il prestito gratuito e temporaneo di vari beni Sono state stampate 262.000 fotocopie a colori in bianco e nero ed erogati altri 2027 servizi logistici Nell'ambito della promozione del volontariato sono comprese tutte quelle attività volte ad avvicinare la cittadinanza e in particolar modo i giovani al volontariato e alla solidarietà come insieme di pratiche e di valori Ben 93 persone hanno utilizzato il servizio di orientamento è stato bandito un concorso fotografico tanti per tutti coinvolgendo 30 circoli fotografici aderenti nelle marche e garantito il sostegno organizzativo a 5 feste del volontariato Continuano i progetti educativi nelle scuole tra questi Volontariamente, dedicato alle scuole superiori e Mister Cittadino, rivolto alle scuole primarie e le scuole medie inferiori 245 le classi coinvolte da Volontariamente 703 stage conclusi nel progetto Volontariamente e 181 le classi coinvolte da Mister Cittadino Inoltre, tanti altri progetti di promozione Volontariato ed imprese Giustizia riparativa Stazioni impresenziate 7 i progetti che hanno partecipato al premio Volontariato ed imprese 25 sono gli orientamenti effettuati nel progetto Giustizia riparativa 8 le stazioni ferroviarie chiuse ed impresenziate oggetto di interesse per il recupero e riutilizzo degli spazi Sono stati promossi progetti ed azioni nel contesto nazionale e dell'Unione Europea per favorire la conoscenza presso le associazioni di Volontariato delle opportunità offerte dalle istituzioni italiane e da quelle europee agevolando la partecipazione delle stesse alle diverse opportunità di progettazione Ben due progetti europei in corso di realizzazione e quattro i progetti presentati e finanziati nel 2016 L'esperienza maturata nel corso degli anni nel terzo settore ha permesso a Cessivo Marche di sviluppare un ampio e qualificato know-how in tutti i principali ambiti del mondo delle organizzazioni non-profit Di 94 servizi richiesti, ben 29 sono diventati lavoro effettivo Per approfondire il bilancio sociale del 2016 ti invitiamo a consultare il nostro sito e a seguire la nostra attività sui canali social